Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info No, 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 no! Rorto, rorto! Rorto, rorto, a rostruito e rorto! Rorto, ok, c'erano! Di farne! Satana, suvi lo spiozii! Calcate! Vullo, vou lo scendere! Lo scendere! Lucio, va a far! Ucce, va a far! No, non, non! Nelupone, santa! Come a far. A foste la mia una volta? A foste la mia una volta? A foste la mia una volta? Non v'am primit, ma a chiamato? Mi è riuscini! Mi è di ce? Da, io posso imparare? Io sono comandante, io sono comandante. Asa come hai vintato? N-am nicio legatura io con jandarmini, io sono autorizzati elective e voi stai la dispozitie per orice treaba. N-am eu treaba cu jandarmini, jandarmerea, io sono crubi, e voi stina o filipuri. Domnule, 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 a fost politicos inca de a una? Stau la dispozitie Băi, șapri, băiii! Ordinarule! Nu mai dumneavoastră! Ordinarule! Ați avut 70%, șapte la sucre! Ordinarule! Vă rog? Domnule, domnule, ordinarule! Domnule, 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 Non, ci sono! Aspetta, c'è me, dai щоб... ...d'acqua in dottrenter, ci ce l'ho mi da, o sa a rai... Non ti visson dò, gara de fischi... ...non ne o atrragli, non ne o tralli... Non vò o traccià, ti è vic? Non vò o tralga, ma è vic? È tralat's, a rai, ma... ...e faceti un po' dà... Dovfe! You, ma mi... ...è dà l'altra... ...e faceti dammi loco di io a bò dat... ...to' da lì... ...è ci dai io... ...fai matar bani... Chi va a matare? Cosa sia? E, dai un' ucum' camera, dai un' ucum' camera! Dai un' ucum' a scopo! 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 A scopo no, Muzaru! E' un ucum' a scopo! Te ci sono? Poi ci sono? I'ai scopo! Rupi! Chi deve essere! Chi a finituse di verso? Puoti! Puole andare.